si lamenta l'impresario che il teatro più non va ma non sa rendere vario lo spettacolo che da ah la crisi ma cos'è questa crisi ma cos'è questa crisi metta in scena un buon autore faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà un riccone avare vecchio dice ahimè così non va vedo nero nello specchio chissà come finirà oh la crisi ma cos'è questa crisi ma cos'è questa crisi cavi fuori il portafogli metta in giro i grossi fogli e vedrà e la crisi finirà si lamenta nicodemo della crisi lui che va nel cassino di sanremo a giocare al baccarà ah la crisi sa capirà la crisi ma cos'è questa crisi ma cos'è questa crisi lasci stare il gavazzare cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà tutte quante le nazioni si lamentano così conferenze, riunioni ma si resta sempre lì ah la crisi ma cos'è questa crisi ma cos'è questa crisi rinunziate all'opinione della parte del leone e chissà che la crisi finirà l'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar oh la crisi signor ma cos'è questa crisi ma cos'è questa crisi si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà che la crisi passerà e per fin la donna bella alla crisi si intonò e per far la linea snella digiunando sospirò ah la crisi oh signora la crisi ma cos'è questa crisi ma cos'è questa crisi mangi un sacco di patate non mi sprechi le nottate e vedrà che la curva tornerà Grazie a tutti.